Ciao Aclea, io sto costruendo un ecco d'orto. Aclea, io sto costruendo un ecco d'orto. Questi tre... no, questi quattro sono i pussati. E questo è il mio ecco d'orto. Ti manderò un altro video. Ciao Aclea, come vedi mio ecco d'orto è quasi finito. Ti manderò un altro video, vedo che sarà finito. Ciao Aclea. Ciao Aclea, finiamete il mio ecco d'orto è pronto. Ecco qua, il mio ecco d'orto. Finiamete, finiamete, è pronto. Ciao Aclea, ciao. Sao ad leo, sao